Benvenuti su un podcast in pretura. Prima di iniziare ad ascoltare la puntata di oggi, ricordati di condividere e mettere like per non perderti le prossime puntate e aiutarci a crescere. Oggi proseguiamo il processo a carico di Matteo Salvini per i fatti della ONG Open Arms. Come ho anticipato, il posto sicuro, POS, è stato concesso il 15 agosto alle 3.23, dopo meno di due ore dell'ingresso in acque territoriali italiane. È stato contestato però il ritardo. E siccome io prima ho letto un po' che la concessione del posto, almeno in tre governi, è sempre avvenuta con un certo margine temporale, abbastanza ampio, di distanza dal momento della richiesta, c'è da chiedersi ma allora tutti violano la normativa internazionale che prevede che questo posto sia dato immediatamente. Perché se un capo di imputazione si dice che Matteo Salvini non ha esitato il posto tempestivamente, significa che esiste una norma che indica il tempo entro il quale deve essere concesso il posto, significa che tutti i casi che io ho indicato, governo Conte 1, Conte 2 e Draghi, hanno violato tutte queste norme internazionali. In realtà nessuno ha violato alcunché, perché nemmeno l'accusa ci ha indicato qual è la norma che prevede che il posto abbia una scadenza. Io credo che ci sia un po' di confusione da parte dell'accusa tra il concetto di posto e altri concetti. Intanto spesso ho sentito dire, post vuol dire porto sicuro, no. Place, place, place non è porto, place è posto. Il place of safety, cioè luogo sicuro, non è un porto sicuro. Il place of safety è un concetto ampio e può essere individuato sia sulla terra ferma che in mare. in particolare è un luogo di sicurezza che potrebbe essere situato a terra a bordo di un'unità di soccorso o di un'altra nave che possa servire come luogo di sicurezza fino a che i sopravvissuti siano sbarcati verso la successiva destinazione. Questa è l'esatta definizione di posto. Quindi non possiamo stabilire che il posto ha delle caratteristiche diverse. Le convenzioni internazionali e le linee guida non hanno un solo rigo in cui sia previsto un termine perentorio. Io credo che anche giuridicamente l'utilizzo dell'avverbio tempestivamente sia totalmente sbagliato proprio perché la normativa internazionale non prevede un termine perentorio e non lo prevede né per la concessione del POS né per la concessione del momento dello sbarco. Perché? Perché la convenzione SAR certamente prevede che gli stati firmatari debbano garantire che sia prestata assistenza a ogni persona in pericolo mare, senza distinzione sulle nazionalità, allo status. Ma occorre tenere presente che proprio per ottimizzare queste procedure previste dalle convenzioni SAR che prevedono questi soccorsi ci sono state delle novità, cioè degli emendamenti. Io vorrei che si focalizzasse l'attenzione sulle novità, sugli emendamenti, su quello che veramente è previsto. L'emendamento dell'articolo 33 della convenzione SOLAS e l'emendamento del capitolo 3.1.9 della convenzione SAR richiedono agli stati alle parti contrenti di coordinarsi e cooperare per far sì che i comandanti delle navi che prestano assistenza siano sollevati dai propri obblighi e di organizzare lo sbarco appena questo sia ragionevolmente praticabile. Non entro un giorno, non entro due giorni, non entro tre giorni. Quando è ragionevolmente praticabile, l'espressione inglese è as soon as raisonevoli praticable, quando è ragionevolmente praticabile, quindi non c'è la parola immediato, non c'è la parola due giorni, non c'è la parola subito, non ci sono parole che possono giustificare un capo di imputazione in cui si parla di tempestività. La locuzione è ragionevolmente praticabile, tra l'altro deve essere correlata ai fini di una corretta interpretazione al paragrafo 2.6 dell'annex 34 alla risoluzione 167, secondo cui ogni caso può comportare circostanze diverse. Perché non è che quando si fanno queste convenzioni non ci si rende conto del fenomeno che si sta regolando. Questi emendamenti danno allo Stato responsabile flessibilità, flessibilità e dicono ogni caso ha caratteristiche diverse, ogni caso va affrontato in modo diverso, ogni caso può avere delle caratteristiche che impongono tempi più lunghi. addirittura c'è un'espressione importantissima, le linee guida contemplano la possibilità che ci siano dei ritardi e definisce i ritardi inevitabili. Abbiamo un capo imputazione in cui si parla di tempestivamente e le convenzioni che parlano di ritardi inevitabili. Il comandante dovrebbe comprendere che in alcuni casi il necessario coordinamento tra stati può comportare ritardi inevitabili. Ma va bene, quindi abbiamo visto che manca questa espressione che mi sembrava il presupposto del capo di imputazione, cioè il termine, perché si parla di tempestivamente, vabbè. Però ci si potrebbe chiedere, ma ragionevolezza cosa vuol dire? Quello che è ragionevole per me può non essere per l'altro. E chi interpreta la ragionevolezza? Esistono dei parametri che consentono di stabilire quando è ragionevole e quando non è ragionevole? E soprattutto quali sono gli interessi da prendere in considerazione? Dobbiamo immaginarlo o è previsto da qualche parte? È previsto. il limite della ragionevolezza, quindi ragionevole il tempo entro il quale fare, sbarcare. Non c'è scritto un giorno, non c'è scritto immediato, non c'è scritto subito. Il limite della ragionevolezza deve essere considerato tenendo conto di quali interessi? Degli interessi dell'ONG? No, degli interessi migranti e dello Stato o degli Stati interessati. Quindi questi sono i due interessi. Però, Presidente, sono due gli interessi, non è uno solo. È chiaro che le esigenze primarie della salute possono condizionare la durata del tempo ragionevole. Però nelle convenzioni non è che si parla solo ed esclusivamente dei migranti. Si parla anche, e meno male, degli interessi dello Stato. Annex 34 alla risoluzione 167, come principio generale del diritto internazionale, la sovranità di uno Stato consente a tale Stato di controllare i suoi confini e consente a talo Stato di escludere gli stranieri dal suo territorio e di prescrivere leggi che disciplinano l'ingresso di stranieri nel suo territorio. Occorre bilanciare il tema della salute dei migranti col tema del controllo dei confini. Non è che Salvini, che addirittura è stato sbeffeggiato per aver utilizzato il termine desueto confini. Si è inventato questo termine. La parola Stato esiste, la parola tutela dei confini esiste. L'esigenza di tutelare gli Stati non è inventata. Io credo che l'errore di fondo dell'accusa sia quello di considerare solo gli interessi dei migranti e ritenere esigenze di sicurezza di ordine pubblico estrane, estrane al procedimento di accoglienza. Non sono estrane al procedimento di accoglienza. Esiste una sentenza passata in giudicato, Gop e Catania, che ha già ritenuto legittima una temporanea limitazione della libertà dei migranti in base all'esigenza di bilanciare gli interessi dei migranti con quelli dello Stato. Esistono gli interessi dello Stato e la sentenza ricorda lo status, la condizione del migrante. Nel senso che quando si deve valutare giuridicamente la posizione del migrante si deve tenere conto che, virgolette, sentenza passata in giudicato, i migranti che giungono clandestinamente nel territorio nazionale si trovano in una situazione contraddistinta da una sorta di detenzione amministrativa o di libertà limitata, che può durare diversi mesi e che viene caratterizzata con l'accettazione dei predetti nei centri di accoglienza da dove possono allontanarsi e dove permangono in attesa di tutti gli adempimenti del caso, anche se poi molti di loro si rendono praticamente irreperibili e invisibili, andando a infoltire la nutrita schiera di irregolari che stazionano nelle nostre città anche creando seri problemi di ordine pubblico, oltre che seri problemi di convivenza con parte delle comunità locali. Questa è una sentenza passata in giudicato che quando parla delle esigenze, degli interessi da porre a confronto, da bilanciare, fa presente che il migrante non ha uno stato di libertà assoluta, ma una porzione della sua libertà l'ha lasciata a casa accettando questo passaggio di condizione, la condizione di una libertà temporaneamente limitata. Questo significa che in qualche modo viene compressa la sua libertà se deve rispettare delle procedure? Secondo il gruppo no. In linea con questa normativa internazionale che veramente va approfondita ed è una normativa che prevede esplicitamente flessibilità, libertà nell'individuazione della tempistica per il POS, in base a questa convenzione internazionale e al nuovo indirizzo politico del Governo, c'è stato un accordo stabilito, ora vi dico da chi, in un tavolo tecnico. Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione, Ministero dell'Interno, Comando Generale del Corpo della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, Ministrato delle Infrastrutture e dei Trasporti, Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore della Marina, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale della Guardia di Finanza. Nelle persone di Vittorio Pisani, Tiziana Liguori, Fabio Guadagni, Daniela Parisi, Sergio Liardo, Claudio Manganiello, Alberto Meoli, Giuseppe Aletta, Luca Provenzano, Alessandro Morosini, Luca Giovanni, Castellammare, Andrea Cruciti, Marco Guerrini, Angelo Pitocco, Massimiliano Pecchia, Paolo Zottola. Mi sembra che stiamo parlando di persone al di sopra di ogni sospetto, io ho sentito in una requisitoria dire che questo tavolo tecnico è borderline, ma borderline è un tavolo tecnico, cioè ci si è seduti attorno a un tavolo e si sono sedute istituzioni di massimo rilievo, esaminando le convenzioni e il nuovo indirizzo politico del Governo hanno fatto una riunione di coordinamento avente ad oggetto il contrasto all'immigrazione illegale. E in questo tavolo sono state date delle indicazioni decisive, 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 perché testualmente il dottor Pisani ha detto la tempistica dello sbarco a terra sarà inevitabilmente determinata non solo dalle valutazioni del Ministero dell'Interno, ma altresì dalle interlocuzioni governative con gli organismi europei per l'eventuale redistribuzione, precisando altresì quello che è avvenuto per Open Arms, precisando altresì che in tali casi l'assetto navale intervenuto potrà essere ritenuto valutandone la capacità quale post-temporaneo. Post-tempo-raneo. In questo tavolo tecnico si prende atto che le convenzioni parlano di flessibilità, si prende atto che il Governo sta raggiungendo via via nuovi accordi di redistribuzione e che per non fare scattare gli oneri che sono previsti dall'accordo di Dublino bisogna prima redistribuire e poi sbarcare. E quindi si rende conto che è necessario stabilire che le varie navi devono essere post. È chiaro che la nave può essere post se non viene abbandonata in mezzo al mare, ma se si crea attorno alla nave una cinta di sicurezza, in modo tale che ci sia non solo la sicurezza, ma un POS adeguato, a tutelare i migranti. Ma le caratteristiche del POS quali sono precisamente? Cioè ognuno di noi può dire questo è un POS, questo non è un POS, basta che sia una nave. Come facciamo a stabilire se Open era un POS? Può deciderlo un giudice perché non esiste nessun tipo di indicazione normativa e quindi discrezionalmente deve rendersi conto della situazione e stabilire POS o non è POS? O ci sono degli aiuti, ci sono delle strade, ci sono degli appigli normativi che come delle guide ci possono far capire se una nave è POS o non è POS? La risposta è ci sono. In particolare stiamo parlando del paragrafo 3 dell'appendix, alcuni commenti sulla legge internazionale alle stesse linee guida di cui parlavamo. La Convenzione SAR non definisce luogo sicuro, perché non c'è questa definizione. Tuttavia, tuttavia, perché essendo ovviamente delle linee guida, ti voglio guidare. Sarebbe in contrasto con l'intento della Convenzione SAR definire un luogo sicuro esclusivamente mediante riferimento alla posizione geografica. Ad esempio un luogo sicuro potrebbe non essere la terraferma, piuttosto un luogo sicuro dovrebbe essere determinato in relazione alle sue caratteristiche e a ciò che può garantire ai sopravvissuti. Allora la domanda è, cosa chiede? Che sia garantito ai sopravvissuti qualcosa che dobbiamo via via interpretare o c'è un elenco di ciò che deve essere garantito? C'è un elenco. È il luogo sicuro, quello in cui i sopravvissuti non siano in pericolo di vita e dove le necessità umane primarie, cibo 1, 2, riparo, 3, cure mediche, possano essere soddisfatte. Cibo, riparo e cure mediche. Cibo, riparo e cure mediche. È un posto sicuro da cui possa essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella loro successiva o finale destinazione. Le lina guida interpretano e forniscono un elenco chiuso e tassativo. Noi non possiamo oggi dire, e sì ma secondo me però ci deve essere questo requisito in più. No, non si può. È il luogo sicuro, quello nelle quali le operazioni di salvataggio si considerano concluse, in cui i sopravvissuti non sono più. Uno, pericolo di vita. Due, anno, cibo, riparo e cure mediche. Basta, basta. Non possiamo dire, ma doveva avere la libertà di fare... No! È un post-temporaneo. È un post-temporaneo. Non possiamo dire che servono altri requisiti. Anche perché? Se no non sarebbe temporaneo. Se no non verrebbe definito temporaneo. Questa è una prima tappa. Gli ulteriori diritti che esistono saranno soddisfatti alla destinazione finale. Ma in che situazione si trova allora Open Arms? Quando giunge in prossimità di Lampedusa? Viene abbandonata a se stessa? Ci sono pericoli per l'incolumità dei migranti? Ho sentito pure dei tentativi di suicidio. Ora vediamo. Intanto c'è un diario di bordo, poi su questo dirò qualcosa, da cui emerge un susseguirsi di sopralluoghi per verificare la situazione a bordo, evacuazioni, visite psicologiche. E richiamo la deposizione di Liardo, a partire da pagina 48, in cui ho chiesto a Liardo cosa succedeva quando c'era questa nave lì davanti a loro. Ci furono molte persone che andavano. Cosa succedeva? Ad esempio la consegna di viveri, come avveniva da parte di Astral. Chi è Astral? Astral è un'unità di un'organizzazione non governativa. Ci conferma che alle 18.44 salì una squadra di psicologi? Sì. Ci conferma che alle 19.49 del 15 agosto inizia l'evacuazione e viene completata e successivamente il 16? Sì. Le risulta che alle 12.04 del 16 c'è un nuovo permesso per imbarcare una squadra di psicologi? Sì. Le risulta che veniva continuamente autorizzato l'approvvigionamento di viveri e quant'altro necessario? Assolutamente sì. Le risulta che il 17 venne autorizzato a salire a bordo l'armatore? Sì. Le risulta che alle 13.30 Open Arms venne autorizzato a fare compere? Compere. Lui su questo non se lo ricorda. Dopodiché si è andata a vedere il diario di bordo, visto che questa nave era isolata in mezzo al mare, chiedono di andare a fare compere i sequestrati, scendono i sequestrati e vanno a fare compere e tornano. E che si trattasse di un post viene ribadito da una serie di testimoni che sono stati sentiti in questo processo e in particolare ricordo le dichiarazioni dell'ammiraglio Liardo perché sono molto eloquenti. Ci fornisce un dato secondo me dirimente. E cioè Open Arms a quel punto era alla fonda. Non era più in pericolo. Vi ricordate il primo requisito? Non essere in pericolo. In quanto l'equipaggio ai migranti erano nelle condizioni di essere ridossati, avevano l'assistenza sanitaria ogni qualvolta era necessario. Quindi garantita la salute, garantita la sicurezza. Inoltre vi erano le motovedette che pattugliavano per il caso in cui qualcuno si lanciasse in acqua. Non c'era pericolo. Ti lanciavi e venivi ripreso. Ora vediamo perché si lanciavano tra l'altro. Quindi, ammiraglio Liardo, avevano l'assistenza massima che potevamo dare. Attenzione, un'altra importantissima definizione di POS, di Liardo. Anche ai fini della normativa internazionale, la RADA è a tutti gli effetti un porto. Insomma, tra virgolette, erano giunti in un'area in cui, come dire, rientra esattamente nel concetto di porto, di porto, di porto. Faccio presente che risulta dalle stesse dichiarazioni di Oscar Camps che, per quanto riguarda la sicurezza a bordo, era l'imbarcazione di salvataggio e ha una sicurezza garantita fino a 300 persone. 300 persone che però ovviamente non erano a bordo, perché sappiamo che quando entrano nel porto sono più o meno un terzo, direi. E passiamo al cuore dei cuori. Diritti umani. Un tema fondamentale è quello anche dei diritti dei migranti, a prescindere dalle condizioni di salute. Si badi, Presidente. Io potevo fare una scelta diversa e dire, la normativa internazionale prevede salute, cibo e sicurezza. Basta? Basta! Non è che ora prevede diritti umani, libertà di movimento. Direi questa è la norma. No, andiamo oltre. C'era attenzione, a parte il tema della salute, anche all'igiene e ai diritti a bordo? Io credo che abbiamo prove, non di attenzione, di grande attenzione, di scrupolo, di sensibilità. Va detto per chiarezza che tutto ciò che riguarda le condizioni a bordo, ovviamente, sarebbe di competenza oggi del Ministro Salvini, che è Ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti e che ha sotto di sé la Guardia Costiera. Ma all'epoca era Ministro all'interno. Non c'entra nulla con la verifica delle condizioni a bordo quel Ministero. In particolare, la competenza a vigilare, ad assumere iniziative per ciò che riguarda le condizioni a bordo, non è del Ministero dell'Interno, ma questa competenza del Ministero dei Trasporti e del Ministero dei Trasporti per il tramite del Centro Nazionale di Coordinamento e del Soccorso Marittimo, di concerto con due importantissime autorità, che sono CIRM e USMAF. Il CIRM è il Centro Internazionale Radiomedico, ora vedremo il ruolo del CIRM. Il Ministero della Salute ha l'USMAF, che è l'ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera. Secondo il testo di riferimento nazionale, procedure per l'assistenza medica in mare in situazioni di emergenza, sottoscritta da IMRCC, CIRM e USMAF, si prevede che IMRCC ha un potere decisionale autonomo. In ordine alla possibilità di effettuare un trasbordo, per ragioni mediche, CIRM e USMAF assistono IMRCC nel prendere decisioni più adeguate. Le valutazioni che sono fatte da questi organismi non sono vagliate da altri ministeri, sono autonome ed esclusive. Cioè la legge ha previsto che per quanto riguarda ciò che avviene a bordo e tutte le condizioni, queste devono essere valutate da questi organismi. E la competenza è una competenza esclusiva. Qual è la riprova? Credo che voi ricorderete che abbiamo prodotto agli atti il fascicolo, un po' di carte, del caso Marionio. Perché abbiamo prodotto il caso Marionio? Il caso Marionio è un caso del 2 settembre 2019. In quel caso non c'era POS, non era stato dato il POS a Marionio. Quindi Marionio non poteva fare sbarcare i migranti. In assenza di POS smarcarono i migranti. Com'è possibile tutto questo? Senza coinvolgimento del Ministero dell'Interno? È possibile perché il medico dell'USMAF aveva attestato che c'erano delle criticità a bordo, da un punto di vista igienico. Quello stesso medico Arnone ha fatto il sopralluogo su Open Arms, attestando che non c'erano assolutamente condizioni precarie che imponevano lo sbarco. Quindi io ho sentito parlare di situazioni di contagio, scabbia, condizioni pessime. Allora, una cosa è quello che si dice, una cosa è quello che c'è. Allora, ci sono delle relazioni. Il 17 agosto il personale USMAF effettua l'ispezione a bordo, che era quella tra l'altro disposta alla procura di Agrigento. Antonio Arnone, che era quello che invece aveva fatto sbarcare per questioni di igiene i migranti da Mar Ionio, non fa sbarcare nessuno da Open Arms e li avrebbe potuti fare sbarcare senza nemmeno dirlo a Salvini. Nella relazione di Mar Ionio c'è un giudizio negativo per una permanenza di migranti a bordo per le condizioni dei servizi igienici. Perché hanno diritto pure ad avere dei servizi igienici adeguati i migranti? Sì. Per l'impossibilità di usufruire del locale destinato a infermeria, che evidentemente non si poteva usare. Per l'elevata quantità di rifiuti stoccati a bordo, per le precarie condizioni psicofisiche dei migranti. Diceva Arnone, io ho visto questa situazione, non possono più restare. Quindi non era un problema necessariamente, stanno male, c'erano delle condizioni igieniche, c'erano i bagni in disordine, c'era una situazione che non tutelava i diritti dei migranti. Ora, quello che mi colpisce è che chi sale su Open non è un altro medico, perché vedete, se fosse salito un altro medico, poteva magari avere sensibilità diverse, criteri di valutazione diversi. Sale lo stesso Arnone! Sale lo stesso Arnone! E cosa rileva? Non rileva la situazione che ho sentito in questa aula. Quella che ho sentito in questa aula era di Marionio. I capi di vestiario sono lavati e stesi. Non si riscontrano tracce di materiale biologico. I servizi utilizzati stanno in ordine, si presentano puliti. I migranti appaiono provati fisicamente e psicologicamente, ma si mostrano calmi e collaboranti. Le celle frigorifere e le due celle frigorifere sono in ordine dove sono conservati gli alimenti. Le spezioni del locale destinata all'infermeria è attrezzato per le prime urgenze. C'era una situazione non di grandissimo benessere, ma di tranquillità, di la possibilità di procrastinare a bordo la convivenza. Tutto era in ordine, tutto era pulito. Non viene formulato un giudizio negativo per la permanenza a bordo. Sul punto abbiamo sentito anche piantedosi, al quale ho chiesto se ricordava se c'erano state delle ispezioni per verificare le condizioni a bordo. E lui ovviamente dice, guardi che queste ispezioni, tutto ciò che riguarda le condizioni a bordo, noi nemmeno lo sappiamo. Comunque per quello che ricordo nessuno mi ha detto niente, è competenza di altri, ma gli organismi sono USMAF e CIRM, ma nessuno ha segnalato criticità. Quindi questo primo rilievo riguarda le condizioni da un punto di vista, diciamo ancora, igienico-sanitarie e la differenza con Marionio. Dopodiché io ho sentito dire che c'era comunque uno stato tale di angoscia, di privazione di diritti, di sofferenza, di prostrazione, che portava i migranti al tentativo di suicidio. Ora, Presidente, io sono andata a misurare, open, io non ho mai visto uno che tenta il suicidio da due metri, che è il posto dal quale saltavano, e facevano il salto col salvagente. E la terra era a pochi metri. Io credo che, forse bisogna anche ascoltare quello che hanno detto i testimoni, prima di parlare di tentativo di suicidio. La costa era a poche centinaia di metri, e un testimone d'eccellenza è il diario di bordo, perché il diario di bordo è scritto da open. Il 18 agosto, sapete cosa trovate annotato? Abbiamo casi di persone che si sono volute buttare in acqua per raggiungere la costa annotando. Ma è chiaro, se io sto viaggiando perché qualcuno mi ha fatto bighellonare per settimane, e vedo di fronte la costa, e vedo che tanto ci sono le moto vedette che mi possono salvare in qualsiasi minuto, e sto a due metri in altezza e ho un salvagente e mi tuffo, è un tentativo di suicidio o è una chiara volontà di raggiungere la costa? Cristina Camilleri, che non aveva motivo, visto da chi era stata citata, che è medico, ausiliario della Procura della Repubblica di Agrigento, ha detto durante il tragitto per arrivare sull'isola, la fantasia che mi ero fatta rispetto alla notizia che alcuni migranti si fossero buttati in mare, era quella di un comportamento di tipo autolesionistico. L'osservazione diretta invece, chiaramente, è stata diversa. I migranti che si lanciavano in mare si lanciavano perché la pulsione di vita era maggiore. Questi volevano andare a nuoto a Lampedusa. Lo stesso è precisato da Liardo, che garantisce, che testimonia che avevano comunque messo le motovedette in aria, perché c'era la possibilità, come è avvenuto, che qualcuno si lanciasse per raggiungere la costa. Perché ovviamente sono persone esperte e sanno che se un migrante vede vicino alla costa, mette il salvagente e si tuffa. Ora, per fare l'avvocato del diavolo, senza offesa, il fatto che questi migranti si tuffavano, secondo l'accusa, dimostra comunque un profondo disagio. Perché? Perché si potrebbe dire. Però tu così. Vero è che magari si tuffavano per raggiungere la costa. Però li costringe a tuffarsi. Quindi, c'è una libertà di movimento perché pur di andare lì mi devo tuffare. Non è che puoi considerare una via facile il tuffo. Il tema è un altro. La Guardia Costiera ha aperto una via d'uscita per il semplice disagio di coloro che erano a bordo. Per salvaguardare tutti i diritti. Risulta gli atti. Non mi riferisco alle autorizzazioni allo sbarco per motivi di salute. Medevac mi sembra che siano chiari, nemmeno ve li voglio illustrare. E' un secondo varco, una seconda apertura, una seconda opzione per tutelare i diritti dei migranti. Naturalmente trattandosi di un varco per coloro che avevano disagio a stare a bordo, chi era competente era la Guardia Costiera. Chiunque riferiva di non adattarsi alla vita di bordo per ragioni di spazio, stress, o perché non tollerava la promiscuità, scendeva. Senza controlli, senza verifiche. Anzi, scendeva lui e con un presunto accompagnatore scelto a caso. Vediamo, questi sono gli unici documenti che troverete allegati. È molto importante questo passaggio se vogliamo arrivare a vedere le vere condizioni dei migranti. Il giorno 15 agosto, gli psicologi di emergency raccolgono alcune dichiarazioni dei migranti. Purtroppo devo andare in dettaglio, ma è una necessità. Asefa Daniel Salomon. L'esame clinico ha un eloquio fluente, umore deflesso, difficoltà ad addormentarsi, pensieri intrusivi, angoscia, promiscuità a bordo con persone di nazionalità libico-bianca lo terrorizza. Quindi è un disturbo ad adattarsi alla vita di bordo. Il fatto, cioè, per questa persona che stava in una condizione, diciamo, di promiscuità, creava una difficoltà di adattarsi. Michal Tesfalded era affaticata e priva di energia e aveva stipsi. Tutto questo è influito sull'umore della paziente che è sul versante depressivo. Si ipotizza un disturbo depressivo e quindi è stressata dalla vita a bordo. Eloquio rallentato per Berna Tevdos, difficoltà ad addormentarsi. Incubi dall'esame psicologico, presenza di un disturbo da stress a bordo. e qui abbiamo due sorelle che vedremo che poi loro, vedremo, sono due copie in colla. Comunque, difficoltà a mantenere il sonno e angoscia. Si mostra collaborativa, però ha un eloquio rallentato, rallentato. Quindi, ansia e umore a defresso per la vita a bordo devono scendere. Allora, queste sono dichiarazioni raccolte da emergency, in cui queste persone dichiarano che non si adattano alla vita a bordo, chi perché è di un colore e non sta bene con l'altro colore, chi perché per i propri vissuti magari non riesce a continuare a convivere, chi è stressato, insomma, delle condizioni che nulla hanno a che fare, con delle condizioni mediche gravi o condizioni quelle delle medevac. Normalmente, quando ci sono questi viaggi, sono delle condizioni che fanno parte della vita di viaggio e normalmente queste cose fanno parte di questo tipo di viaggi. Invece, si decise che di fronte alla semplice dichiarazione del disagio, dell'impossibilità di convivere con quello dell'altro colore, dello stress e della stipsi, quindi un semplice disagio a bordo, venne deciso lo sbarco immediato. Lo sbarco è chiesto alle 17.42, alle 18.19 si sbarca e il CIRMA, che normalmente, cioè se è una cosa medica, fai un controllo. Siccome era un varco di diritti umani, non fa nessun controllo. Sono casi relazionati di patologie tipo psichiatrico, come centro di telecomandi, non ho strumenti o competenze, fateli scendere. Quindi, il 15, il 15, 5 persone scendono dichiarando che la vita a bordo era stressante. A questo punto, sino a questi 5, ne scendono altri 4, che si dichiarano accompagnatori. Non si fa nessun controllo da parte del CIRMA, ma via di più, via di più. Non solo nessuno si sogna di fare controlli, ma era evidente, perché li ho posti io al confronto, che c'erano due discrepanze enormi tra quello che scriveva Open e quello che attestava Emergency. Perché, ad esempio, Montes attestava che c'erano tre minorenni e nella relazione con la quale scendeva, quindi Montes dice ti sto mandando giù una minorenne, nella relazione c'era scritta data di nascita 1,4-2 mila, quindi era un minorenne di 19 anni che scendeva, ma nessuno importava di fare verifiche sul disagio, sull'età, sul fatto che la Montes diceva minorenne e la data era 2 mila. scendi, scendi, gli dicevano. L'altra, che pure ovviamente c'è una netta discrepanza, bastava fare un controllino, questa si chiama Cromo Bayen, ma viene chiamata dalla Montesacran, anche questa è una minorenne, ma la relazione Emergency diceva che aveva 18 anni. Poi queste due erano sorelle, e si vede perché nella descrizione che fanno, fanno la stessa descrizione di vita e poi si vede anche dal cognome. Allora, cosa fa Open? Dice che sono due minorenni, invece sono tutte due maggiorenni, e le fa scendere come se fossero persone separate con altri due accompagnatori, mentre ovviamente erano due sorelle adulte che viaggiavano insieme. Nessuno controlla nulla. Solomon, che è quello stressato, perché aveva un colore di pelle diverso, eccetera, eccetera, dichiarato minorenne, anche questo è un minorenne di 18 anni. Cosa significa questo che voglio dire? Che nessuno stava controllando niente? Ma non perché siamo scarsi o perché c'era indifferenza, perché come spesso avviene, c'era la volontà di aiutare i migranti da parte dell'Italia, da parte della Guardia Costiera, c'era un canale per chiunque dichiarasse il disagio, per chiunque dichiarasse io non mi adatto. Non intendo quindi dire che c'era un problema di salute, perché i problemi di salute li tengo a parte e le medevac sono state fatte. Sto dicendo che c'è la prova agli atti che il 15 agosto, sulla base della dichiarazione, io non mi adatto alla vita a bordo, si scendeva con un accompagnatore. Allora, allora, e sequestro di persona, se il sequestrato può sbarcare facendo presente che non si adatta alla vita della nave? Sequestro di persona, un minimo di compressione della libertà ci vuole. E sequestro di persona, se una persona dichiara insonnia, insonnia, stress, depressione, non adattamento alla vita di bordo, ed esce senza nessun controllo. Allora, io qui mi sono fatta una domanda. Se open il 15, nota che è sufficiente fare queste dichiarazioni che non vengono controllate, e scendono 5 più 4, quindi 4 accompagnatori più 5, scendono 9, ma nel giro di 2 ore. La domanda è, ma perché non sbarcano tutti? Perché gli altri non avevano disagio? Allora, delle due luna, o tutti gli altri non avevano un minimo di disagio e stavano bene nella nave, oppure open poteva tranquillamente fare quello che aveva fatto per gli altri 5 e farli scendere tutti. tutti potrebbero scendere il giorno 16. Ripeto, non si tratta di certificare false patologie, si tratta di scrivere quattro righe in cui si dice disagio e la guardia costiera aveva dimostrato di far scendere l'oro e i presunti accompagnatori. allora la mia domanda è era difficile compilare questo modulo? È un modulo in cui ci sono tre righe in cui bisognava scrivere la parola di saggio erano cento? Se si diceva ai migranti scrivi la parola a disagio e scendi quanto ci voleva? Tenete conto tenete conto che a bordo c'è sempre stato un medico che ha fatto dei report individuali e ha compilato nome e cognome e le condizioni di quelli che salivano. Perché tenete conto di questo? Per un'altra cosa che adesso succede. C'è qualcosa secondo me di particolare che poi infatti l'ho trovato anche sul diario di bordo tra il 15 e gli altri giorni. Nel senso che una cosa è quello che è accaduto il 15 altra è quello che accade dal 16 in poi. Anzi quello che non accade dal 16 in poi. E vedremo che risulta anche al diario di bordo secondo me che è successo qualcosa. Open vede che c'è questo varco abbiamo detto può compilare questi moduli e che fa cambia totalmente le richieste che fa l'Italia. Inizia a chiedere per farsi dire no. Manda la Montes capomissione alle 12.54 una mail anziché fare quello che doveva fare fare i moduli dice no no io voglio lo sbarco di tutti i migranti e non intendo ipotizzare disagio stress non scrive niente vuole solo lo sbarco come dice lei ovviamente come risponde l'Italia scusa scusa se fino a ieri mi hai fatto scendere le persone scrivendo disagio 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 perché oggi non si può fare più guarda che c'è un numero il numero del CIRM telefona e segui la procedura scendono il CIRM gli manda i moduli questi che vi ho fatto vedere prima e gli dice scusa fino a ieri hai fatto i moduli fai i moduli e scendi Open risponde non vogliamo perdere tempo per fare i colloqui si trattava di compilare cinque righe di moduli a questo punto ecco qui sinceramente mi sembra che l'Italia si metta in ginocchio perché dice a Open allora se è troppo stancante fare i moduli nuovi dammi quelli vecchi dammi quelli che ha fatto il medico di bordo via via ti faccio scendere in ginocchio il 16 agosto mandatemi quelli già elaborati quindi si tratta di inoltrare clic e vanno ebbene questa mail ho visto che fine fa la Montes la gira a Oscar Camps ed è un chiaro ok allo sbarco mandami i moduli che hai che hai che hai che hai bene Oscar Camps legge sapete qual è la risposta stiamo parlando di una nave con i migranti stressati che stanno col disagio che hanno secondo qualcuno malattie si può risolvere con un inoltre mail non viene data risposta all'Italia l'Italia in ginocchio sei sequestrato il carceriere ti dice mandami i moduli che hai cosa fa il sequestrato volta le spalle chi sta bloccando i migranti a bordo e soprattutto i migranti sono stati informati che l'Italia aveva chiesto una mail con i dati già presenti per farli scendere cala il silenzio cala il silenzio cala il silenzio la Montes non invia il report non invia nulla e il report non viene non viene mandata la mail che già hanno il giorno 16 presidente il giorno 17 presidente il giorno 18 e il giorno 19 a questo punto l'Italia di nuovo in ginocchio cosa fa? scusate perché non ci mandate la mail l'Italia scongiura Open di mandare la mail si ribadisce che il centro di soccorso è in attesa di ricevere come richiesto questi famosi report perché non li mandate? io voglio sapere perché non li mandano ce li avevano a bordo e cosa fa Open? alza la sticella quindi il report il modulino da compilare le cinque righe no non te lo mando perché le cinque righe sono troppe ok i moduli che già avevi? no silenzio e a questo punto c'è una telefonata di minciacchi a bordo è un medico sempre di IRMCC che dice ma noi vi vogliamo aiutare e loro rispondono non accettiamo così no 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 noi li vogliamo fare scendere tutti? rispondemi minciacchi va bene scrivetemi un pezzettino di carta in cui scrivete che c'è un pericolo di vita e li facciamo scendere subito sapete cosa risponde testualmente Open? oh ma che domande sono? queste domande le fai ad altri? noi non te la testiamo questo ma volevano scendere il povero minciacchi si sente rispondere che non dovevano nemmeno dire che c'erano dei pericoli di vita avete fatto queste domande ad altre navi no 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 noi sollecitiamo lo sbarco come diciamo noi ed allora come mai come mai come mai il 15 vedono che scendono e il 16 cambiano procedura l'Italia in ginocchio dice mandami qualsiasi cosa niente 17 18 19 cosa aspetta Open ho cercato 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 di capire nella sequenza delle mail che vi potrei aiutare perché per fortuna c'è proprio una sequenza di mail ho trovato mentre l'Italia che aveva chiesto questa famosa mail il re inoltro attendeva 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 cosa fa la signora Montes decide di non rispondere all'Italia e di scrivere alle ore 13.06 del giorno 17 al dottor Vella procuratore di Agrigento dicendo io sono Annabel Montes ci sono condizioni sanitarie e psicologiche delle persone a bordo ripetutamente discritte e sottoposte alle istituzioni preposte guarda che tutto questo può generare stress eccetera eccetera non dicendo che l'Italia era in ginocchio e che gli diceva mandami questi report e scendi e scrivi al procuratore omettendo di dire che l'Italia sta aspettando te Open era stato sì presentato un esposto era stato sì presentato un esposto ma Montes chiera nessuno ma Montes perché non rispondi all'Italia perché non rispondi e perché dici al procuratore che sta in difficoltà senza dire che non stai rispondendo all'Italia il 18 agosto si sveglia il governo spagnolo e concede il post a Open e lo concede inizialmente ad Algeciras in realtà io ho trovato la traduzione ordina ordina credo che sia ordina una parola succede qualcosa di strano e poi ho capito che il diario di bordo dovete vedere però il diario di bordo nella versione originale se no questo non si capirà dopo il diario di bordo si rassorbe in una memoria difensiva in cui si contesta la Spagna pensate quindi abbiamo Open che è entrato nell'Italia è entrata in territorio italiano non risponde all'Italia ha il post in Spagna la Spagna gli dice vieni e la risposta è per noi è obbligatorio seguire le indicazioni dell'Italia cioè quell'Italia alla quale non stavano rispondendo come se l'Italia la stesse obbligando a stare lì poi sostengono che c'è una sentenza TAR che obbliga lo sbarco totalmente falso e poi parlano di un'indagine della procura ancora nessuno sapeva del sequestro e poi concludono dicendo noi intanto non siamo sotto la vostra giurisdizione ma italiana quindi l'Italia che comanda non voi gli dice alla Spagna questi prima si aprono con Malta poi con l'Italia e poi con la Spagna e poi concludono è pericoloso per la salute andare così lontano e qui si è aperto un tema perché perché si è detto ma in effetti i migranti sono stanchi perché vengono da un lunghissimo viaggio probabilmente è corretto quello che si sta dicendo cioè è corretto quando il comandante dice migranti come fanno a sopportare questo viaggio sarebbe corretto se non fosse che Keros dice tutto il contrario di tutto perché dice tuttavia però i migranti possono andare in Spagna purché con un'altra nave non con me perché si scopre in un'altra pagina di diario perché lui ritiene che se va in Spagna si prende delle sanzioni e c'ha delle responsabilità e quindi la verità è che quando dice non ce la fanno i migranti andare in realtà si contraddice perché subito dopo afferma se qualcuno li porta ce la fanno con me no però ma non solo a questo punto la Spagna dice visto che ti sembra questo porto lontano vieni a Palma di Maiorca cosa risponde Keros no 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 nemmeno a Palma di Maiorca sono disponibile solo se prendete gli altri migranti quindi non accetta nemmeno Palma di Maiorca viene proposto a questo punto il trasbordo dei migranti in un'altra nave parzialmente che poi li trasferirà in Spagna e viene mandata una mail e questa è un'altra mail particolare la Spagna insiste con Open e dice noi vi diamo quello che volete quello che volete diteci cosa volete perché il viaggio sia sicuro e noi lo facciamo vi offriamo anche un post più vicino ditecelo risposta di Open non ho niente da dirvi perché non ha mai risposto alla Spagna cioè la Spagna gli dice venite dimmi come ti posso aiutare la stessa cosa che è avvenuta l'Italia non rispondo no in particolare Madrid chiede i dati delle persone a bordo continua a chiedere alla Spagna di dare almeno quei dati così si accelera e la risposta di Open stiamo parlando di Open che dice che c'era una situazione a bordo disastrosa la Spagna dice almeno dammi i dati e vedo di accelerare questi sbarchi buonanotte invieremo i dati domattina mai inviati i dati mai inviati i dati quindi la Spagna offre al Josiraf offre Palma di Mallorca offre aiuti chiede dati prima risponde Open e poi stop cade nel silenzio quindi la Spagna non convince Open ci prova l'Italia in riferimento alla nota riguardante il porto di Al Josiraf disegnato dal governo spagnolo per questa unità navale questa MRC è disponibile accompagnare Open Arms con un mezzo navale italiano fino al porto spagnolo soprandicato tramite questa unità navale ci impegniamo a trasferire parte degli attuali migranti al momento a bordo della vostra nave chiedeteci tutto quanto è necessario per un viaggio in sicurezza cibo acqua carburante chiedeteci pure come risponde Open nessuna risposta è ancora l'Italia buonasera per quanto riguarda l'ultima mail questo MRCC è ancora in attesa è in attesa è in attesa di sapere quali sono le vostre esigenze per effettuare il trasferimento quali sono i carcerieri chiedono ai sequestrati come possiamo aiutarvi ancora una volta e i sequestrati ancora una volta non rispondono passano dei giorni c'è un ennesimo sollecito diteci diteci perché non rispondete risposta di Open ora siamo molto impegnati non vi possiamo rispondere allora comincia a essere un po' particolare questo tipo di non risposta perché erano anche qui troppo impegnati alla Spagna hanno detto buonanotte a noi in Italia dicono troppo impegnati domani domani eh lì domani non hanno mandato nulla 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 e infatti i MRCC ancora una volta in ginocchio buongiorno signore per quanto riguarda l'ultima mail MRCC ancora in attesa di conoscere le vostre esigenze meno male che questi scrivevano se no non avremmo traccia e perde le staffe persino Toninelli Toninelli ecco quelli che sostengono che il governo aveva isolato Salvini un paese che consente ONG di hissare la propria bandiera su una nave poi non può girarsi dall'altra parte auspico che il comandante non si opponga poi ci siamo messi a disposizione con la guardia costiera per accompagnare Open Arms in Spagna per offrire un supporto tecnico e per trasportare parte dei migranti la ONG ha incredibilmente rifiutato con un atteggiamento che fa sospettare ci sia mala fede da parte loro a questo punto facciamo un ulteriore passo avanti siamo disponibili a portare noi con la nostra guardia costiera nel porto iberico che ci verrà indicato tutti i migranti poi qui è una foto in cui lui sta alla scrivania e dice sono stato io a risolvere tutto grazie alle nostre interlocuzioni la Spagna ha annunciato l'invio di una propria nave beneditare bene buona notizia sono auspico del governo spagnolo con cui ho interloquito direttamente risponda al nostro appello ed allora abbiamo signor Presidente e signori del Tribunale delle prove inconfutabili che l'Italia il 15 attraverso la guardia costiera dava la possibilità con la mera parola disagio di scendere abbiamo la prova che dal 16 in poi si alzò la sticella e non si rispose più all'Italia e alla Spagna che qualcosa cambia è sicuro io non sono in grado di ipotizzare cosa si stesse aspettando di preciso non lo so non lo so so che qualcuno manda mail alle procure e so che c'è qualcosa che non va nel diario di bordo perché siccome io sono sempre abituata a guardare non le carte ma gli originali delle carte è stato difficilissimo inudenza preliminare riuscire a ottenere questo famoso diario di bordo tradotto e se prendete l'originale del diario di bordo vedrete che dal giorno 16 in poi c'è un resoconto totalmente diverso da quelli fatti precedentemente ci sono intere pagine in cui si parla di norme del posto spagnolo emergono una serie di questioni giuridiche tecniche e non vengono però annotate una serie di mail rilevantissime molte di quelle di cui vi ho parlato ad esempio quella in cui l'Italia era disponibile seduta a stante a fare scendere i migranti col re inoltro di una vecchia mail così come non si fa cenno alla mail al PM ed allora controllando l'originale emerge che è successa una cosa cioè dal giorno 15 al 21 non si scrisse il diario di bordo perché perché erano convinti ovviamente che erano arrivati il giorno 21 il giorno 21 ricominciano a scrivere il diario di bordo però compilano anche i giorni che non erano stati compilati e questo si vede perché il giorno 16 16 in realtà è ricalcato col numero 21 e siccome il diario credo lo sappiate è divisa la pagina del diario in due parti c'è una parte del diario che annota gli eventi un'altra parte che ovviamente annota che cosa la velocità la corrente i venti ebbene nella pagina del 16 sono annotati e poi cancellati i dati della velocità dei venti e delle correnti del 21 per cui era stata compilata questa pagina il 21 con ciò che era accaduto il 16 cioè sostanzialmente ex post si è compilato questo diario di bordo e questo è evidentissimo alterando perché il numero 21 è sopra il numero 16 e non si poteva il giorno 16 agosto conoscere il vento le correnti e la velocità del giorno 21 agosto quindi è stato ricostruito tutto ex post ex post probabilmente per ragioni di ricostruire meglio non lo so io non voglio ipotizzare le ragioni il fatto sta che quella parte del diario di bordo non attesta giorno per giorno quello che è successo perché mancano tutte queste cose e perché non è ipotizzabile che uno sappia il giorno 16 agosto la velocità di open arms che avrebbe avuto il giorno 21 agosto nell'agosto del 2019 il ministro Salvini si stava combattendo una battaglia certamente non contro i migranti gli atti di questo processo documentano che i migranti sono stati assistiti tutelati aiutati che la guardia costiera si è messa in ginocchio Salvini stava combattendo una battaglia contro chi confonde le pretese e i diritti ma usare a sproposito il termine diritto è molto pericoloso innanzitutto per i diritti non esiste il diritto di bighellonare con i migranti a bordo per due settimane pur di non ottemperare un divieto non esiste il diritto di rifiutare le indicazioni degli stati delle zone di ricerca e soccorso dove avvengono i trasbordi non esiste il diritto di scegliere dove quando come fare sbarcare i migranti e quali i migranti non esiste il diritto di ignorare le offerte di aiuto né quelle di rifiutare ogni soluzione i confini e lo dico convintamente contrariamente a quanto qualcuno pensa lungi dall'essere strumenti di discriminazione sono lo scudo della pace se chiunque potesse entrare in Italia senza regole e senza controlli nel nostro paese regnerebbe il caos e la violenza io ho ricordato in questo processo a prescindere dall'esito delle pagine che io reputo nere nere soprattutto quelle in cui l'Italia in ginocchio chiede indicazioni da open e open rifiuta così come quelle in cui la Spagna chiede come può offrire aiuto e la Spagna risponde e la open risponde buonanotte una buonanotte sarcastica perché non manderà niente alla Spagna infine la terza pagina che reputo nera non è una pagina ma è il video che ho ricordato perché ecco perché parlavo di processo politico in questo senso perché io non capisco proprio perché non facevano sbarcare i migranti e però la risposta ce la dà Oscar Camps sono felici non perché sbarcano ma perché è caduto il ministro dell'interno Salvini è caduto per queste ragioni chiedo la soluzione perché il fatto non sussiste grazie presidente deposito una memoria ed eccoci arrivati alla fine di questo episodio di un podcast in pretura se avete trovato interessante questo episodio vi invitiamo a mettere mi piace e a condividerlo con i vostri amici è grazie a voi che queste storie possono continuare a vivere e a raggiungere sempre più persone non dimenticate di iscrivervi al podcast per non perdere i prossimi episodi nella prossima puntata parleremo di un'altra vicenda drammatica che ha segnato profondamente la coscienza collettiva del nostro paese grazie per averci ascoltato e ricordate la memoria è un dovere di tutti noi grazie a tutti grazie a tutti